Con Fabiana Maccaruso e Chiuto, eccoci qua, che sono gli artisti di questa sera qui ovviamente al Sestino Beach per la festa di Novella 2000 Party, cosa proporrete? Dunque, abbiamo in omaggio per il direttore Alessi un ritratto fatto da me e da Chiuto, un ritratto a quattro mani in uno stile street art, quindi a tema con quello che noi facciamo nella vita. Siamo due artisti, io sono anche una pittrice, scultrice, però nella vita siamo anche due writer che collaboriamo insieme, prima di tutto lui perché mi ha insegnato lui il mestiere e lui è un writer di livelli proprio internazionali, quindi insieme a lui ho imparato quest'arte magnifica e che cerco di portare avanti insieme a lui ovviamente, quindi una coppia di fatto e una coppia anche artistica. Qual è l'occhio importante e vigile su queste creazioni? L'originalità, l'originalità e soprattutto dare un significato in quello che si fa, oggigiorno tutti si improvvisano artisti, essere artisti vuol dire anche essere originali, soprattutto avere tanta fantasia nel realizzare un dipinto.